Partiti Piegata che immette la retta d'arrivo, non mutano le posizioni, sempre il vantaggio Purwine, seconda posizione insegue 6 nell'anima, per via interna agisce Asisempre, che ora viene superato dal numero 4 gol Dendolli. Quindi, bella lotta per la vittoria che sembra essere destinata a Purwine, se nell'anima i due se la danno, se nell'anima il retta d'arrivo adesso passa, se ne va facile e vince nei confronti del numero 5 Purwine, terza moneta per il rappresentante della Golden Dolly. La corsa ha rispettato le attese, tra l'altro nella chiusura al betting, se nell'anima era passata favorita a 2.32, ed è questa la quota finale per il vincente della corsa Italia Corso, seconda moneta per Purwine, terza posizione Golden Dolly. numericamente 756546555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555